L'associazione adesso, organizzazione di volontariato, che agisce sul territorio palermitano, si rivolge a pazienti oncologici, soprattutto quelli più indigenti, cercando di offrire una serie di servizi nel settore sanitario. Che tipo di servizi? Allora, noi intanto facciamo parte di una cordata di Onlus a livello nazionale che fa capo a un'organizzazione storica nel torinese che è Assili Notturni, che ci mette intanto a disposizione anche degli alloggi per pazienti di tipo oncologico che hanno la necessità di farsi curare, di fare terapia comunque in centri del nord Italia. Questi alloggi sono a disposizione sia del paziente che dell'accompagnatore fino a un massimo di 20 giorni e viene offerto anche il vitto, quindi è un'opportunità importante. Sul territorio palermitano invece noi offriamo altri tipi di servizio, sempre di tipo sanitario, anche di tipo domiciliare, come domiciliazione farmaci, come per esempio anche assistenza domiciliare, laddove il paziente non è in condizione di poter far fronte da solo. Abbiamo un piccolo centro, una segreteria in via Cappuccini 178, dove forniremo fra l'altro anche alcuni servizi di tipo anche cardiologico, perché l'approccio al paziente oncologico è multispecialistico, quindi coinvolge anche altre specialistiche come la cardiologia, la ginecologia, l'urologia e così via. Quindi siamo in condizione di poter fornire alle persone che ne hanno estremamente bisogno questi servizi e di colmare quel vuoto che a volte, un po' per problemi burocratici, un po' per problemi economici del paziente stesso, si verificano. Come si diventa volontari della vostra associazione? Che tipo di requisiti bisogna avere? Bisogna avere intanto una propensione al volontariato, la cosa più importante è questo, avere del tempo che non deve essere necessariamente un tempo pieno, ma è chiaramente il tempo che si può dedicare. Intanto andare sul nostro sito, che è adesso dv.org, e poi con contattare, troverete lì anche le nostre mail, il nostro numero di telefono, contattarci e poi saranno ricontattati e li convocheremo per un colloquio, per un minimo di colloquio.